Come tutte le volte c'è Giovanni Ferrara che deve dire sempre il suo motto Allora anche oggi, scusateci per la trasmissione dell'altra volta che non è andata in onda per problemi tecnici dovuti a Nicola che per l'ennesima volta non si è sentito bene e anche oggi purtroppo siamo qui all'antenna di Monte Sambuco il sottoscritto Nicola è quasi finito, per non dire è finito totalmente ci risentiamo tra ritorno a Sansevero per darvi gli ultimi esiti di questa bellissima passeggiata tranne il nostro caffè come al solito da Giacomino Salute a tutti come l'ultimo motto buon sangue non smette Nicola comunque non sento la gamba oggi